Per Ferragosto una grandissima magia, non con questo ma con questo, con un semplice dito che andrò a metterlo qua sulla mia orecchia, state a vedere, infilzerò l'orecchia, il dito sull'orecchia, attenzione Potete vedere che da qui non posso uscire ma basta, un po' di magia e il dito è completamente Sano l'orecchio, non è rosso, spezzato, è completamente sano Vi è piaciuta? Provateci da casa E allora, ciao a tutti quanti!